Abbiamo un calo di prenotazioni che ci impone naturalmente di non seguire il piano delineato dal commissario Figliuolo, quindi è necessario che tutte le persone che vogliono vaccinarsi da 40 anni in su possano farlo. Ci stiamo organizzando per la vaccinazione delle persone con delle patologie, poi vi darò dei particolari perché è in fase di organizzazione e ci dobbiamo pure organizzare per la vaccinazione nelle aziende, compreso il settore turistico. Io ho visto delle richieste da parte di alcuni sindaci, non c'è da fare, penso, nessun tipo di polemiche. Sapete che la nostra regione per efficienza di vaccinazione è una delle prime a livello nazionale, quindi non saremo secondi a nessun'altra regione che può farci concorrenza sul piano del turismo. Solo che dobbiamo essere concretamente capaci di identificare l'organizzazione con il volume dei vaccini che ci vengono consegnati. Anche su questo caso sono stati preannunciati al governo approvvigionamenti per circa 500 mila dosi il mese di giugno, ma concretamente quando arriveranno questi vaccini ancora non è stato delineato nello specifico. In ogni caso noi siamo pronti, alla fine di giugno arriveremo a un milione di immunizzazioni. Io penso che tutto questo, praticamente l'estensione della vaccinazione a tutti, potrà partire, penso, verso la metà di giugno, quando avremo contezza di questo milione di vaccini. In ogni caso il sistema ormai è pronto a portare la nostra regione verso l'immunizzazione di massa. Non si spiega perché il volume delle prenotazioni dei quarantenni sia così basso rispetto ai numeri che noi ci siamo prefigurati, quindi bisognerà capire esattamente. Teniamo conto che molti di questi quarantenni si sono già vaccinati in quanto familiari di persone disabili, in quanto personale inserito nel settore della scuola o delle forze di sicurezza che sono state vaccinate all'inizio. C'è da tener conto tuttavia che abbiamo interesse che gli slot delle persone che in questo momento possono essere vaccinati siano riempiti perché abbiamo ricevuto moltissimi vuoti, non siamo riusciti a riempirli.